Desideri vivere una vita in armonia? Ricorda che da soli si va più veloci, insieme si va più lontano. Comunicare, condividere, aprirsi agli altri sono tutti modi per crescere, conoscersi meglio, per accelerare la propria creatività, per sviluppare nuovi punti di vista e quindi anche nuove idee. Se non sai in che modo aprirti agli altri, in che modo comunicare efficacemente, ti invito a seguirmi su armoniosamente.org e a contattarmi per qualsiasi informazione o chiarimento. Ricorda, vivi armoniosamente, trasforma le difficoltà in libertà.